Io vedo che alla fine tre quarti di quelli che hanno provato a fare questa roba del treppo, vogliamo chiamarla non hanno proprio la poetica dietro, quindi tu puoi anche fare la cosa brutta però devi avere un'estetica artistica che valorizza la cosa, dire boh sei bravo, sei solo parrucca Quello che dicevamo l'altro giorno, gue delle volte in dei testi, adesso ci uccideranno per quello che stiamo dicendo però gue delle volte in dei testi fa quei tipi di racconti lì, ma lo fa in una maniera che è totalmente diversa dal classico Sai cosa ragazzi, quando è vero si sente Allora ragazzi bentornati, è arrivata la primavera ed è arrivata una nuova puntata di Purple Room siamo già all'episodio 5, quest'oggi un amico e il grafico più forte di Torino ma la sorte è 666 Non faremo nessuna setta satanica Sono bravo, è solo un nome Noi ci siamo conosciuti da poco ma sembra quasi che ci conoscevamo già Allora come stai brother? Bene, bene, stiamo facendo un bel po' di roba, siamo sempre impegnati, abbiamo sempre le mani in pasta Quindi non ci possiamo lamentare, stanno andando alla grande e tutto quanto, sono soddisfatto, felice Vogliamo ricordare, vabbè, oltre che aver fatto diverse grafiche sia me che a tanti in Torino In questo momento stai seguendo la SED Sì sì, sto seguendo la Jackout Jackout Che salutiamo, mio fratello E grazie a lui che mi ha introdotto anche con la SED Sto curando delle cose a livello grafico per la SED Quindi ho fatto l'ultimo merchandising La SED ha come ubicazione in questa parola Tutti quanti della stessa città? No, no, no Quindi si sono ritrovati da Sì sì sì, adesso io non so esattamente come si siano conosciuti ma Se non sbaglio c'è Fix che è Veneto Ok Plant Quello di Torino Eh? Io me lo ricordo, lui è di Torino bro No, Fix No, 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 Plant Ha vissuto a Torino con Jack Ah, ok Plant infatti non mi è nuovo come nome Da quello che so che mi ha raccontato Jack Ha vissuto, ma anche me l'ha raccontato anche Plant Lui ha vissuto qualche mese qua con Jack Qualche anno fa Tipo tra l'altro è un sacco che fa musica Ed è un sacco che martella Vedi che comunque è il risultato di chi sbatte la testa Continuamente, continuamente Ma saranno almeno 10-11 anni che fa musica Eh, non lo so, non lo so Esattamente quello non lo so Perché io quando ho iniziato a cantare Ce n'erano pochi a Torino Mi ricordo di lui e altri quattro Sui plant mi ricordo anche io questo nome Ma lui è molto giovane comunque Lui è 99 Ah, boh, ma allora vuol dire che canta proprio quando era proprio piccolino Eh, io adesso non so esattamente O magari comunque aveva appena iniziato e si era preso già subito lo spazio Io ne avevo già sentito parlare di lui prima Ovviamente di tutto questo movimento qua Però sì sì è uno super in gamba Uno che si dà super da fare Quanta roba Una persona super regolare Ma tutti quanti Allavamo prima di accendere il telecamera Di questa figata che appunto è il movimento della sede Di cui ora tu comunque stai in stretta collaborazione Diciamo che loro sono stati Posso permettermi di dire bravi A prendere tutta quella fetta di pubblico Perché non ha preso diciamo Tutto quella che è la trap e il rap Sì E se sono tutta una serie di ragazzi Che sono rimasti scontenti Eh, bravo Sì 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 Io penso che Eh sì, di brutto Sia la SED sia Jack Out Loro sono stati bravi a dar voce tra virgolette agli altri Certo Magari non a quelli che hanno bisogno di sentirsi grossi in gruppo Ma gente magari un po' più fragile Magari un po' più introspettiva E loro sono stati bravi Eh, a dare voce a queste persone qua A intercettare con la fetta di pubblico Piccola parentesi Sì Come ti dicevo Aperto a gennaio Sono venuti già parecchi ragazzi qua a registrare Da Sarà un caso E io avevo già lo studio prima Da quando esplosa sta roba della SED Sì 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 Ho visto che ha aumentato notevolmente Il numero di ragazzi che vengono a registrare Sì sì Più o meno quella roba mezza punk Mezza rock Che non si capì Ma gira intorno a quella roba lì Sì 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 Che tra l'altro è un genere molto Molto figo Sì 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 Prende molto Prende molto Sì 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 Sicuramente a livello musicale Ti carica molto Sì Però a livello prettamente musicale Poi a livello di tematica Cioè di tema Delle canzoni Di cosa parlano Io ad esempio È una roba che ho sempre sentito In qualche modo mia Magari Loro ovviamente parlano Dei loro vissuti Però in qualche modo È roba che Abbiamo passato un po' tutti Bravo Esatto Solo che tante volte In questa società In cui Prevale sempre il più forte Quello sicuro è Sembra la gara Esatto Loro hanno toccato Queste tematiche qua E le persone E le persone Comunque Si sono viste I ragazzi Si sono visti Specchiati in questa cosa qua Quindi Penso che abbiano fatto Penso sia stata comunque Una roba naturale Non hanno mai Si Non hanno mai Non hanno mai Il personaggio È una roba Sentita diciamo Io comunque Parlando con Jack Che sono Super a stretto contatto Con lui Cioè Abbiamo un rapporto Bellissimo Siamo amici Oltre che collaboratori Lui mi ha sempre Parlato di questa cosa qua Comunque Come una roba Che si sente lui Cioè Lui non è che fa Questa cosa qua Per qualcosa Per provare Esatto Per grattare Esatto Lui comunque Ha avuto varie fasi Ed è arrivato a questa cosa qua Molto personale Cioè Molto introspettiva E si è Si sente Rispecchiato bene Sì Sicuramente È un ragazzo Che In questo ambito qua Dal punto di vista Di questo genere qua Molto rispetto Poi uno che ha fatto Un sacco di roba Prima Cioè Lui Non sbaglio Lui di Genova Eh Aveva avuto Delle connessioni Con Ted Lui I primi pezzi Li ha fatti In studio stile Che era lo studio di demo Dove Lì c'erano Cromo E tutti gli altri Dove Dove Ted Ha registrato Orange County Aspettando Orange County Ah Pienso te Lui conosce Easy Tutto un collegarsi Poi su sta roba Della musica Incredibile Jack è clamoroso Ha conosciuto Praticamente tutti Mi sta influenzando Sono iniziato a dire Anch'io Incredibile 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 Sposti il microfono Da lì a lì Incredibile A quella cosa morbida Incredibile Incredibile A tre scenari È vero È vero È vero E comunque Secondo te Questo movimento Ora appunto Della sede In generale Diciamo del nuovo punk Sì Come lo vedi Tra qualche anno Può diventare La nuova trap Io Io penso Io penso di sì Eh vero Io penso di sì Perché comunque Come dicevi tu prima Anche solo aprendo Instagram Guardando magari Le sponsorizzate Adesso Come dico io Adesso sono tutti sad Ah vedi Adesso sono tutti Adesso fanno tutti La roba love Questa roba qua Capita La roba che Comunque magari Parlano della ragazza O parlano Magari di quanto Si sentivano Ammarginati O di momenti Più difficili Della loro vita Ecco Quando Se io invece Guardo Prima Era una roba Molto diversa Parlavano Invece molto di più Mettevano da parte Esatto Ti sparo con la gang Esatto Mettevano da parte Questa cosa qua Come se fossero Nati tutti Già sicuri di se stessi Certo Io A mio discapito Qualche ragazzo Che registra Lo perderò Per questa Io non sopporto più niente Però Io ho finito di sopportare Sta roba Ma al final Non ce la faccio Proprio più Poi bro Adesso Tu magari musicalmente Non mi conosci Io sono molto Anch'io Chill I testi Sono molto leggeri Faccio reggaeton Quindi tu immagina Io che odio Odisse Sentire sta roba Ti sparo Poi Allora C'è da dire che Io non è che schifo il genere Uno schifo le influenze Che porta Chi fa quel genere Fatto a tutti i costi Per far vedere Che la sua gang È più forte dell'altro E ti sparo Mingga Non ce la faccio E poi Più che altro È un pochino Fino a se stessa Perché È un ragazzino Che viene di 16 anni L'altro giorno C'è stato un ragazzo E aveva voluto registrare Diceva delle robe nei testi Ci siamo fermati Ma davvero Tu mi hai vissuto queste robe Lui mi fa No non è vero Anche lì Perché devi andare a dire Una cosa che non è rio Cioè preferisco Che tu sei triste Sei depresso Però dimmi la tua realtà Come diceva Marrakesh In un'intervista Sei il figlio Di genitori borghesi Dillo Che è sicuramente Più interessante Che fare Il figlio di Tony Montana Non c'è nessuna vergogna È bravo Qual è il problema Guarda è una cosa Che condivido Perché Follia Questo immaginario Arriva fondamentalmente Dall'America Dove ci sono davvero Cioè ci sono davvero Degli artisti Sono stati Degli artisti King Von Chief Kiff Il Dark Che arrivano magari Dalla periferia Di Chicago Però sono colleghi No come dire Sì però loro davvero Un fatto De faccia Cioè loro Penso che davvero Abbiano ucciso delle persone Perché erano nella gare Purtroppo Nel senso che poi anche lì Poi io non voglio discutere Sembra una roba cool Cioè Incredibile Non voglio discutere La credibilità Di artisti Perché sicuramente Ci sono degli artisti Che Come si può dire Le faccende Le cose le hanno fatte Per carità Però Mi sembra strano Che adesso Tutti facciano queste cose qua Eh vabbè ma loro Loro in quello che hanno fatto Sono già un'influenza adesso Sì Ma poi sai anche cos'è Quella roba che diciamo La puntata Molto figo Manzo e Jay Sinner Che non è neanche tanto Al livello poi Propostilistico Io vedo che alla fine I tre quarti di quelli Che hanno provato a fare Questa roba Del tre Come vogliamo chiamarla Non hanno proprio La poetica dietro Quindi adesso Tu puoi anche fare La cosa Per far brutto Però devi avere Un'estetica artistica Sì sì Che valorizza la cosa Dire boh sei bravo Sei solo parrucca Quello che dicevamo L'altro giorno Guè delle volte In dei testi Adesso ci uccideranno Per quello che stiamo dicendo Però guè delle volte In dei testi Fa quei tipi di racconti lì Ma lo fa in una maniera Che è totalmente Riversa Dal Dal classico Sai cosa ragazzi Quando è vero Si sente Bravo A voglia Quando è vero Lo senti Personalmente Quindi Quindi secondo te Comunque Riallacciando il Sì sì Il disco Può diventare una nuova Io credo di sì Io credo di sì Io penso che sia Un po' la nuova wave Che sta arrivando E forse è già arrivata Perché comunque Io mi ricordo Quando ancora con Ad esempio Già lavoravo con Jack Ma non con Gli altri ragazzi Della SED Osservavo le cose Tra virgolette Da fuori E vedevo già Che il movimento Era molto molto forte Era forte Poi anche tu puoi confermarlo Perché mi dici Che stanno venendo Ora Sì sì Io sai cosa aggiungo Invece anche Aggiungo ancora Che secondo me Sta roba del mercato musicale Adesso parliamo Dell'Italia È talmente ancora In fase di sviluppo Di creazione Che non credo Che una roba Vada a sostituire L'altra Nel senso che Questa è una roba nuova E rimarrà una casella Di fianco al resto C'è talmente tanta gente Ormai tutti Tutti quelli che nascono adesso Dai sette anni in poi C'è spazio per tutto Ascoltano solo più Quella roba Quindi c'è un mercato Totalmente in espansione Che dovesse esplodere Un altro genere Trova la sua Non trova la sua nicchia Perché tanto alla fine Non è che ti devi piacere 60 A 60 milioni di persone Che ti devono seguire In live Ma se ti piace un milione Ma sì Esatto Esatto E suoni in tutta Italia Lavori sempre Fai soldi Perché sono quelli Sono importanti Per far girare Tutto quanto il sistema E lo zoccolo duro Eh sì Certo Sai anche i numeri Sono sempre una roba relativa Io vedo magari artisti Che fanno dei numeri giganti E poi magari Non vedo mai una storia Non vedo mai Non vedo mai un video Dei loro live O magari vanno 100 persone a live Esatto Esatto Io invece vedo magari Anche solo Jack Anche solo la SED Comunque che Magari non fanno I numeri giganteschi Adesso non so esattamente Perché non è una roba che O se Cioè Non ci ho mai fatto troppo caso Però ragazzi La gente ai live E proprio Canta le canzoni Sono caldi Si vede proprio che Sì Sono proprio legati Agli artisti E quindi questa è una cosa fondamentale Perché Mi rendo conto Che è un movimento vero Cioè la gente sente davvero Quella cosa lì Non è che va live Tanto per È proprio perché lo sente Non è il trend E basta No esatto Esatto Io penso che sia Una cosa Una cosa davvero bella Che poi Pensa che Collegando il discorso del live Tempo fa Ho letto su PDF Molto rapidamente Un libro di uno dei Direttori artistici di Sony Sì Che spiegava che Con il nuovo evento Della tecnologia I tempi moderni È cambiato Come sappiamo Il mercato musicale E discografico No Sì Diceva che oggi Tante In tante situazioni L'etichette major Si sono ritrovati A investire Magari su artisti Che andavano forti in radio Quindi facevano un sacco Di investimento Per far passare Il pezzo Tutto il stato E poi come dici tu Magari Organizzavano il live E c'erano 100 persone 200 O magari non c'era richiesta Mentre un artista Non era mai passato una volta Tipo un esempio Mi viene in mente Gialle che va a noi In Narcos Sì Sì C'è gente che ha sempre Gente super legata Ed è interessante Questa roba Ma infatti I numeri sono relativi Cioè puoi fare Dei numeri giganti Tu puoi fare La hit estiva Fai numeri giganti Però poi Durina stagione No poi Quando magari Vai a fare il live Bisogna vedere Quanta gente Viene a supportarsi Sì O comunque Magari per 5-6 live Funziona E poi va a morire Se è una stella cadena Cioè Penso anche Willy Peyote Di Torino Non è uno Che ha mai fatto Proprio quel Botto Come si intende dire Però Però gira Suona Spacca Si sbratte Super ascoltato Perché ha interaccettato Quella nicchia lì Ma così adesso Come la set Che sicuramente Esploderà ancora di più Ma se non dovesse farlo Sì Non è una necessità Per suonare tutta Italia Ormai Poi con la roba di TikTok È talmente tutto Troppo veloce Certo Che se davvero Una roba funziona Noi nel piccolo Abbiamo avuto Il nostro esempio Con il verano Diventa macchia d'olio È esagerato La gente Ma anche a livello È anche più facile Scusami se ti interrompo Ti lascio concludere È anche più facile Per dei discografici Magari sapere dove andare a investire Che è talmente tutto rapido adesso Certo Che intercettare la roba Dove andare a Anche a posare del capitale Poi tu ne sai sicuramente Più di me Però È veramente Interessante Quello assolutamente Ma poi vedo anche a livello Di immaginario Non so Io vedo Jack Che adesso sta facendo questa cosa Sta portando avanti un po' Questo immaginario Del country boy Ranch boy Ok E io vedo magari i ragazzini Che mettono la storia Che sono non so Tipo allo lue lue E mettono la storia Non so Sul cavallo finto E lo taggiano Capisci Ma anche solo Hanno creato l'immaginario Sì sì È troppo più forte Un viaggio Cioè La cosa incredibile è un viaggio E soprattutto Io penso che funzioni Perché è vero Certo È una roba vera Certo Certo Per forza Si sente proprio Quando una roba è vera È vera Quindi Penso che sia davvero forte Questa cosa qua E penso che Possono Ingrandirsi ancora di più Ma la gente lo capta Perché noi Banalmente Magari in dei discorsi Diciamo La gente ignorante E stupida Non si intende di musica Però magari Non si accorgono Del particolare Dentro la canzone Un mix master Se fatto di qualità La grafica Se una grafica è eccellente O meno Però poi A livello massivo Assolutamente E sono tutti molto svegli E si percepisce la La chimica Quella roba Non ha parole Non ha Eh sì Lo avverti No Come quando Non so Sì assolutamente Capitano di 9 È un concerto Senti uno che forza E lo senti Che sono vibrazioni Quindi come tutte le cose Le avverti sulla pelle Realmente Anche senza conoscere davvero L'artista Incredibile sta roba Magia Anche nei live Comunque Tutti qua Cioè sia la sed Jack Comunque la gente Canta i pezzi Cioè ad esempio Toxic live Questo ricordo qua I magazzini generali A Milano Cioè Figata Tutta la platea Ma quel video Mi sa che è proprio Andato virale Non lo so Non so se Un po' tutti TikTok non è che lo segua molto Però Sì so qualche trend Vedo qualche trend Ovviamente Cerco di tenermi aggiornato Per questione di comunicazione Certo Certo La comunicazione Come muovermi Con gli artisti Però Comunque Ho anche solo Jack Quando magari fa dei pezzi suoi La gente Li canta tutti E quindi Cioè lì Ti senti che Tu quando sei lì Ad esempio dal vivo Sì sì A seguire nei live Come avverti la vibra Ma io ti dico Che è la prima volta Che Allora i primi live No il mio primo live A livello lavorativo Un po' grosso È stato L'Alcatraz Con la SED Che adesso Sono 2500 persone Cioè era una roba Ma Justin Non mi rifanno tanti L'anno scorso Ma sono tanti Sì 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 Mi pare 2005 c'è Forse anche E poi ci mi dice Che ti cantano la canzone Pensavo E superano il volume I decibel Della voce stessa Del cantante Sì io penso Che quello Non canti più Quello era il primo tour No Sì è così Quello era il primo tour Io con la SED Ancora non avevo fatto Nessun lavoro Era Jack Che mi aveva Introdotto Esatto Ti sei sentito In quel momento lì Ad esempio Parte di quel dream Allora ti dico Allora all'inizio Io per il modo In cui sono io Il primo tour Che ho fatto Con la SED E Jack Perché Jack apriva I concerti della SED Abbiamo fatto 4 o 5 date Adesso non mi ricordo Nel nord Italia Anche a Roma E io lì Più che altro Sono stato Spettatore Cioè Non mi mettevo in mezzo Volevo Più che altro Guardare Come si Rapportavano Come si comportavano Dei professionisti E quindi Diciamo che sono stato Non voglio dire Sulle mie Però più osservato Ho voluto osservare E quindi Comunque Non posso dire Che il primo tour Mi sentissi parte Di quella cosa lì In qualche modo Però Stavi cercando di capire In intensità Dove ti trovavi Sì esatto Ma immagino In qualche modo Sì Però comunque Sono stato una spugna Perché ho cercato Di assorbire Più informazioni possibili Che poi mi hanno portato A essere quello che sono Però comunque È una cosa Che non mi dimenticherò mai Cioè Essere lì sul palco Ovviamente al fianco del palco Vedere Jack Che comunque canta In apertura E comunque cantano Tutte le canzoni Vedere gli altri Della set Che poi cantano E alla fine Hanno preso tipo i canotti Si sono messi sopra E la gente Le passava Spettatore No è stato Il mio primo live Grosso Tra virgolette È stato quello È stato quello È stato davvero Un'esperienza incredibile Dove ho imparato Un sacco di cose Ho avuto modo Anche di Conoscere anche loro Un po' meglio E poi col tempo Senza forzare le cose Sono nati i rapporti Rapporti lavorativi E questo è sinonimo Comunque di Intelligenza e umiltà Perché se ci pensi No ma io guarda Tante persone A un posto del genere Andrebbero gridando Le 420 Per vantarsi Di qualsiasi altra roba Poi ormai che viviamo In un mondo di fuffa Giusto Solo per apparire È raro trovare Ragazzi Persone Che ragionano Io quando magari Tanta roba Bravo bro Grazie Prezzo Prezzo No lui è un grande Non voglio dispensare Troppi losing È probabilmente un mito Grazie Apprezzo E come lo vedete È così No è vero È umile Bravo ragazzo Determinato E parliamo anche Della tua Appunto arte Quella della grafica Sì 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 Tu sei conosciuto Soprattutto per Questa tua abilità Di fare Il 3D Sì sì Io ho iniziato Quasi Avevo qualche amico Che pubblicava i lavori Su Instagram E io mi ricordo Che andai al concerto Di Nel 2017 O 2018 Di massimo pericolo E mi ricordo Che ero in platea A fine concerti Dicevo cazzo Io però Vorrei essere Dall'altra parte Cioè io vorrei Collaborare con gli artisti Vorrei conoscerli E da quella volta lì Mi sono detto Io non andrò più a un concerto Voglio stare di là Sì voglio stare di là E mi ricordo Ha visualizzato l'obiettivo E ho cominciato A postare su Instagram All'inizio non mi cagava Manco mia madre Cioè c'erano davvero Due o tre persone Umbe ad esempio Che saluto Il fratello Che è stato uno dei primi Mi ha sempre supportato Mettendo la roba Pian pianino Ho iniziato a lavorare Con artisti locali Finchè poi ho fatto Il primo step Diciamo Che è stato Lavorare con lui Ok Un orato Esatto Che comunque Abbiamo fatto delle belle robe Cioè abbiamo lavorato in team Abbiamo Abbiamo capito tante cose Che pezzo avevate lavorato su? Abbiamo lavorato alle P Alle P Ah ok Chi l'avrebbe detto Ok Sì abbiamo fatto Sì abbiamo fatto Sì abbiamo fatto delle belle robe Questa cosa poi te la chiedo dopo Amici Sono sei mesi che glielo devo chiedere puntualmente Mi dimentico No è stato una bella È stato lì già un primo esperimento di team Sì 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 No ma è stato sicuramente Ho imparato Ho imparato tanto Comunque Ho imparato tanto anche comunque da lui Che ha tre anni più di me Comunque è uno che ha sempre fatto un sacco di roba Battle Si è sempre sbattuto Certo E mi ha comunque anche lì Ho cercato di imparare delle cose Da chi ne sapeva più di me Sì poi la prima del team è quando Proprio si crea uno scambio di Certo Attingi tu da uno Uno dall'altro Certo Assolutamente sì E poi Il secondo step interessante Dovevo fare la tesi di laurea Due anni fa Ok E io volevo fare un disc Cioè volevo portare Quello che era il mio sogno Cioè non volevamo andare a fare Il rebranding del ristorante No è che non avevo Se non ho voglia di fare una roba Io la faccio Giusto Sì con la mano sinistra La fai con i piedi Sì Ma io guardo E quindi fortunatamente Ho mandato un milione Di mail all'etichetta Non mi ha cagato nessuno Tranne una Che era la Metatron Mi ha contattato Elia Che era l'ex manager di Jack E ho iniziato a lavorare Alla Cura Che era il featuring album Che ha fatto Jack Jack out e K busy Che comunque è stato un album Che l'abbiamo portato live Due giorni fa C'è stata una bella risposta Sì 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 Sacco di gente Comunque abbiamo fatto tutto L'apparato grafico L'ho portato alla laurea Era la cosa che sì Ok Mi interessava fino a un certo punto E poi con Jack è nato Un rapporto di fratellanza Cioè anche dopo il progetto Abbiamo continuato a lavorare Lui mi ha sempre Introdotto in tutte le realtà Mi ha fatto conoscere un sacco di artisti Mi ha fatto conoscere la SED Soprattutto Siamo andati a Barcellona Settimana scorsa Gli devi tanto comunque a stare Sì sì Jack Devo un sacco Si vede da come ne parli È come se fosse un fratello maggiore Grande Jack Grande Jack Grande bro Si è invitato a parpura un tono Comunque È stato un fratello maggiore Perché come dico sempre A lui nessuno Cioè Che cosa io ne fregava Invece comunque ha visto Che magari avevo voglia di fare L'avrà visto esatto Una potenzialità Una trasparenza Una onestà Nell'approcciarsi Proprio con le persone Esatto Quello è fondamentale Che io ti dico Guarda Adesso Cambiamo Facendo una devianza È una caratteristica Che cerco sempre Nei ragazzi Con cui lavoro Tipo qua in studio Nei collaboratori Piuttosto che un fonico O produttore O fotografo Ma quella è la base Non me ne frega niente Se non sono capace a fare Cioè ti giuro Chiaramente un minimo Un indirizzamento Ci deve essere Ovviamente Che non è che puoi prendere Uno che non ha mai fatto le foto Non metti a fare le foto Certo Però la trasparenza Non puoi prendere un meccanico E dice Vieni un secondo Dobbiamo fare uno shooting Sotto Tieni questo Magari c'è qualcosa Di interessante Comunque È troppo importante Perché la gente onesta È quella che non Alla lunga Io raga vi dico una roba Fa bene proprio Fa bene a te Cioè non è anche al lavoro Fa bene proprio Fa bene a te Respirare aria pure Di realtà È incredibile Io più che altro Vi dico una roba Io sempre A volte nei backstage Dei live Vedo magari gente Che Entra E non è che Si congratula La prima roba che fa Tira fuori il telefono E fa la storia E io questa è una roba Che ho sempre detto Ma tu come puoi Come puoi ricevere rispetto Da un artista Se la prima cosa che fai Quando lo vedi È tirare fuori la fotocamera E fare la foto Io è una cosa Che mi sono sempre autoimposto Il telefono Lo tiro fuori Ma solo quando c'è un rapporto Magari Se faccio la storia Perché c'è un rapporto Se faccio la foto Perché c'è un rapporto Questo sai cos'è Il lato drammatico Della società occidentale Che ha Negli anni Ora voglio fare il sociologo Però ha profondamente svalutato L'identità singola Delle persone Sì 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 E quindi le persone a volte Vedono l'artista Il calciatore Come fosse Un dio Una sostituzione C'è Quasi non so Una valvola di Sì 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 Di sfogo del loro No? Del loro vuoto Da dire Tu ora mi riempi Questo momento qua Cioè non so Invece non Non si accorga Una persona C'è Ha avuto un lavoro dietro Sacrificio Certo Ma più che altro Sei tu Mi sono svegliato bene No no Sto ragionando perché Hanno quella roba È tristissima Che arrivano come dei cani C'è C'è una quella cosa di Assolutamente Ma più che altro Ti è ghiacciato Avevo visto un video di Lazza L'altro giorno Aveva la comparsa Mi vuole Sei il Nerillo Qualcosa del genere Lui comunque è una persona Nata Ora più che mai In tutta Italia Nel picco della sua carriera Entra a fare una data In discoteca Uno a caso Inizia a tirargli Ma neanche Per fargli male Cioè io capisco Ti stavo A passi notare Ma Ha proprio Ha roba rognosa Tipo di schiaffi Ma io dico L'artista sta passando Ma neanche Ti ripeto Per darti fastidio Come se fosse un pupazzo No no Certo Ma poi guarda Io col carattere che ho Non so se riuscire Non so se ce la farei No ti capi Perché è vero Mi fanno chiudere Dopo due giorni Come dico Se reagisco a qualcuno Va finito Il termine che uso io È che è pieno di grattoni Spari tu azzaro È pieno di grattoni Capisci È pieno di grattoni I grattoni Capisci Gente che Non è disposta A farsi il culo E ricevere magari Rispetto Approvazione Da un artista Da fotografo Quello che vuoi E quindi avere Magari un ricambio di idee Di lavoro anche Ma Vuole grattare la storia Perché poi magari La gente gli mette like E magari Ti può fare bene All'ego Ma è una cosa effimera Ti faccio una domanda Luissimo Mi devi rispondere Con estrema sincerità Ci proviamo Estrema Ci proviamo Sono curioso Tu che hai conosciuto Sicuramente già Abbastanza Tanti Parecchi Personaggi dell'ambiente Quanta falsità C'è dietro I rapporti lavorativi Nel mondo musicale Allora Allora Questa è una bella No no È una bella Ma lo aggiungiamo dopo È una bella domanda Io ti dico la verità Ma guarda Che non è per fare il paraculo Perché Mi ritengo una persona sincera Io ti dico la verità Io penso di avere L'estrema fortuna Di lavorare con delle persone Dai più grandi Con cui c'è più Chi fa più Chi ha un movimento più grande Anche chi ha Dei numeri magari più piccoli Estremamente vero Perché è una cosa Che ho sempre ricercato Io vedo Ad esempio Jack È una persona Estremamente vera Cioè A parte che è una persona Estremamente buona Nel senso che lui Se vede che tu sei una persona Meritevole Non è che fa il figo Ti scaga Perché Ha paura Che magari Gli prendi Gli pigli il clout Anzi no Ti supporta C'è di gente Ho sempre l'estrema fortuna Di circondarmi Di persone Che mi hanno sempre dato Un ottimo esempio Ok Cosa buona questa Sì Poi So Per sentito dire So che Di porcate Porcate Grattoni Storie Quello che vuoi Io però Da Già partire da lui Già Poi arrivare a Jack Fino alla sed E tutta la gente Che gravita attorno A quel movimento lì Sono sempre persone Che mi hanno trattato A me Innanzitutto benissimo E sono sempre stati Super ospitali Anche con gli altri artisti Quindi io posso dire Di aver sempre Visto Un ottimo esempio Non vorrei diventasse La puntata Delle losing Che se confronti Però è anche qua Legge d'attrazione Nel senso che Cosa è bravo Infatti Non c'è niente da fare Se tu sei real Attraeria Se sei una Se sei una puttana Posso dire Se attrai del fake Perché sei fake Che io non vorrei Che si attraggo del fake Perché sono fake Perché mi sento Vuol dire Che sto sbagliando qualcosa No no Quello c'è sempre Nel senso che Lo vedi Cioè comunque È una cosa Per fare le cose bene Richiede più tempo Se vuoi fare le cose In tre mesi Ti circondi Di persone di merda Che vogliono da te Quale cosa La fretta Io ci ho messo Trovi le persone Che ragionano di fretta Io ci ho messo del tempo A fare le cose A fare le cose A riuscire A trovare una realtà giusta Perché sai cos'è Come dire È come proprio Un parto Come una nascita Certo Ci vogliono nove mesi Se tu accelerare Quel processo O ti esce storto O come dire Tu fai qualcosa Di non naturale Di non legittimo La stessa cosa Nel percorso lavorativo Di vita C'è una gestazione C'è una legge C'è un timing Tu non puoi imparare A cantare In un mese No no Come sei nato Mozart No non puoi C'è anche Sfera In un'intervista I successi rapidi Sono quelli che fanno Le stelle cadenti Di cui parlavamo prima Quindi devi No assolutamente Ma poi Facendo riferimento Alla legge dell'attrazione Io nella mia vita Ho sempre ascoltato Quella roba Sono cresciuto con Cioè rap Tutta Però io ho sempre avuto Una vena Un po' Tra virgolette Sad Cioè arrivo da Lil Peep Juice Ward Quella roba Bombissima Sì ma anche Andando prima Negli anni Magari Joy Division Quindi Già qualcosa di cupo Già qualcosa di Che mi ha poi formato Anche penso visivamente Le cose che faccio Non ho sempre un ambito cupo Anche solo C'è un ambito Un immaginario cupo Anche solo il mio nome Comunque Che la gente mi demonizza Magari per sto nome Ma la sorte No è figo perché È proprio un Quasi No no ma Viene dal truce clan Viene dal truce clan Perché c'era un pezzo di Noiz Con Metal Carter Che si chiama Malasorte E aveva sto video Che vi ricordo Che era incredibile Tipo cantavano dentro le bari Questi sono pazzi Sono incredibili Allora non vorrei dire una cazzata Ma quando ho letto Quando lui mi ha spiegato Un attimino Chi era Ha dovuto comunque Presentarti un attimino Certo Ha detto Malasorte È grafico Che collabora Con la sede Tutto quanto Il nome in realtà Mi ha messo Good Vibes Perché È il nome Di un tatuatore Abbastanza importante Di Nichelino Che mi ha regalato Un tatuaggio In collaborazione Vedi E quindi Che era un mio amico Ovviamente E quindi non mi ha messo Bad Vibes Ti rompo È legge d'attrazione In qualche modo Incredibile È tutto È true È vero Non ci si può fare niente Far from true Cambiamo il nome Cambiamo il nome No Bomba Come potremmo Salutarci Racchiudere Questa super puntata Che non ha neanche un taglio Forse uno Uno Perché ci siamo alzati a drogare No Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Non posso spoilerare Allora vi posso dire Che con Jack Stiamo facendo Le cose Delle cose interessanti Nel senso che Presto usciremo Con qualcosa di Interessante Di grosso E quindi Questo ve lo posso dire Per quanto riguarda Me personalmente A me Io raga A me piacerebbe Spostarmi in qualche modo Sul mercato americano Ho avuto Qualche Ho avuto un avvicinamento Che Che non si è mai realizzato Quindi Con Artisti grossi Tipo Che si può dire Kick bait Massimo tagliamo Però Vabbè Bella soddisfazione Esatto Io come dico io Nel senso A me già solo Aver avuto Il dream La visione Che potevi fare Ma sì Ma più che altro Anche già solo il fatto Che magari Della gente che conta Nel mondo della musica Oltre oceano Abbia visto quella roba lì Mi motiva Ti gratifica Sì Mi gratifica Quindi Consiglio veramente A tutti Di andare a seguire La sua pagina Instagram Malasorte666 Perché lui fa delle robe Con render 3D Che sono pazzesche Grazie Grazie No ma davvero Allucinanti Grazie Apprezzo molto Apprezzo molto È stata lunga La parola non so spiegarlo così Però È stata lunga È stato un percorso Un percorso Sì Ho iniziato con le copertine Così magari Rifare le copertine Degli artisti Poi ho scoperto Il 3D Ho scoperto Il type design Che è proprio La creazione di scritte Proprio Composizioni Con delle scritte Poi modellazioni Ho provato un sacco di cose E ne voglio provare Ancora tantissimo Mi gasa quella roba lì Anche perché Non mi piace L'idea di saper fare una roba Rimanere su quella Ma no Anche perché magari La gente ti supporta 4-5 lavori Al sesto lavoro La stessa roba che fai Bisogna rinnovarsi In un'epoca come questa È troppo potente Trovare cose nuove Lanciarle E andare bene Sì sì È difficile Ma è molto più bello Tanto noi di meno Sì no È vero Assolutamente Assolutamente Ma È una cosa che consiglio Sempre magari Altri grafici Che magari incontro Che magari Per un motivo O per l'altro Conosciuto Che magari Non hanno ancora Avuto modo di lavorare A certe cose La cosa che consiglio È quello Cioè Arriverà a un punto Dove magari Troverai una formula Vincente Ovvero che La gente interagisce Tanto con te Per quello che fai Però se tu proponi Sempre la stessa cosa A un certo punto Non te la chiede più nessuno Connetti tu Eh sì Perché non Cioè È come dire Non lo so Faccio un esempio calcistico Vinco la Champions Però dopo dieci anni Non conta più Dire Comunque io dieci anni fa Ho vinto Cioè Devi continuare A cercare Di avere dei successi Di evolverti Avevano anche dei fallimenti Perché io poi Ho fatto tanti lavori Tante cose Che non mi hanno portato A nulla Quella è da fare Un capitolo a parte Una puntata a parte Sul fallimento Madonna Sì Sempre visto in maniera Demonizzata Che libro Poi chi ne parla No Ma no è la base Una volta lo trascura Ma è la base Più che altro Nessuno Nessuno Non capisce Bello In realtà C'è gente di successo Che godere il fallimento Certo Sì 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 Comunque Stiamo diventando Una roba di masochismo Sono una navicela Sbagliate State male Giusto così È la set È la set Sedatevi 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 Sì Se ne l'ha votata così Sì Debrudatevi ragazzi Grazie Luiz Gentilissimo Siamo grato È stato un piacere È stato un piacere Questa è la puntata Numero Cinque Five Tra un po' Arriviamo alla dieci Facciamo due mani Come a scuola Manita Ora siamo manita Ora siamo manita Bella raga La prossima puntata Parpollum Talks Grandi raga Bella Un saluto